Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati su Focus 3.0 Buonasera, buonasera Spero di trovarvi già numerosi Io sono Max Giunta, è il mio primo appuntamento qui su Focus Qualcuno di voi già mi conosce, qualcuno spero avrà il piacere, la voglia di conoscermi Nel corso di questi incontri Grazie ad Anna, chiaramente Tamburini e Enrico Banantin per l'invito Qui su questa pagina così importante E diamo il vita ad una nuova rubrica Ciao Anna, vedo i tuoi commenti, adesso li vedo qua sulla sinistra Buonasera a tutti quelli che si stanno collegando E diamo vita a questa nuova rubrica Che si chiama in maniera molto simpatica Se vogliamo cose dell'altro mondo E' chiaramente un titolo se vogliamo anche leggero Un titolo divertente, un titolo da sapore un po' pop Che ci aiuta proprio ad affrontare Al contrario una tematica molto particolare Molto intensa, molto impegnativa Che è quella della medianità E quando si parla di medianità Non si può non parlare ovviamente anche di spiritualità Di cammino dentro di noi Di cammino di consapevolezza Di cammino di presenza E quindi quello che faremo È un percorso assieme Che nasce oggi Con il nostro primo incontro Oggi il titolo che ho voluto dare a questa prima live A questa prima diretta È Siamo Energia Quindi sarà un cammino Come dire Dentro il quale ci teneremo per mano Fino ad acquisire Questo è un po' il mio desiderio nel cuore Tutti un po' la consapevolezza Che siamo esseri molto potenti Esseri spirituali molto potenti Con la capacità di fare grandi cose La medianità non è solo un dono Per pochi riservati Per una ristretta elite Ma al contrario È una facoltà Che riguarda Tutti gli esseri viventi E di conseguenza È proprio il mio desiderio Quello di poter arrivare Nel cuore Nel mento delle persone Che ci seguono Affinché questa consapevolezza Possa diventare appunto Qualcosa di concreto Allora partiamo con oggi Con questa rubrica La prima appunto La prima appuntamento Di cose dall'altro mondo Con questo argomento Che come vi dicevo poc'anzi Ho voluto intitolare proprio Siamo Energia C'è una bellissima frase Di Pierre Tellard de Jardin Che tutti probabilmente conoscerete Che è questo scrittore Filosofo francese Famoso soprattutto per il libro Il fenomeno umano Ed è una frase che circola Molto spesso negli ambienti Che riguardano appunto La medianità La spiritualità Dice Noi non siamo esseri umani Che vivono un'esperienza spirituale Ma siamo esseri spirituali Che vivono un'esperienza umana Io vorrei un po' partire da questo Con il nostro viaggio In questa rubrica Cose dell'altro mondo Perché in questa semplice frase In realtà viene proprio espressa Una grande 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 verità Che è appunto quella che Non siamo come banalmente Possiamo definirci Un ammasso di organi Di ossa che cammina Ma siamo qualcosa di molto più complesso Qualcosa di molto più affascinante Qualcosa che già dalla notte dei tempi I nostri avi avevano intravisto Che poi per tutta una serie Come dire di svolgersi Dell'umanità In realtà insomma Buona parte di queste informazioni Di queste consapevolezze È andata perduta E quindi quello che faremo oggi Parleremo di questo Nella prima parte E poi come sempre Per chi mi conosce Anche durante le dirette Sa che è una cosa che capita Abbastanza sovente Lasceremo spazio In un secondo momento Alle vostre domande E di conseguenza poi Se il mondo dello spirito Vorrà venirci a trovare Vedremo anche se qualcuno Dall'oltre Magari qualche nostro caro Trapassato Piuttosto che Magari qualche entità Più elevate Vediamo Le porte dello spirito Sono sempre aperte Quindi io sono pronto Ad accoglierli Vedremo appunto Se sul finire Della puntata Della diretta Qualcuno dall'oltre Viene appunto A raccontarci qualcosa O a voler come dire Esprimere il desiderio Di parlare con qualcuno Di voi in collegamento Avremo modo di conoscerci Per cui per me È anche come dire Una grande emozione De buttare su questa pagina Così importante Ma sono anche come dire Fortemente motivato Fortemente spinto Dalla presenza dell'oltre Che sento già qua Manifestarsi Quindi come dire Questo sostegno È qualcosa che accompagna me E tutti noi Ed è qualcosa che rincuora E come dire Scalda moltissimo Allora Siamo energia Questo è il titolo Dell'argomento di oggi Benvenuti a tutti Direi proprio di iniziare Diciamo che Camminiamo per il mondo E mi viene Mi sovviene Una canzone di Battiato Che dice Milioni e milioni Di ombre Che camminano E sollevano polvere Per strada Camminiamo nel mondo Molto spesso Neanche troppo Come dire Consapevoli Di ciò che siamo realmente Da questa parte del mondo Parlo del mondo occidentale Quello che capita È che per vari motivi Culturali Politici Ma anche storici Veniamo molto spesso Identificati Con tutto quello che Come dire In qualche modo I nostri sensi fisici Ci permettono di vedere Dai vostri ricordi scolastici Indubbiamente Saprete che I sensi fisici Sono cinque Il tatto Il gusto L'olfatto La vista E l'udito E ci viene spiegato Fin dai primissimi anni Di età Che attraverso Questi sensi fisici Noi possiamo Come dire Vivere la nostra avventura Su questo pianeta Su questa dimensione E quindi attraverso I nostri sensi fisici Come la vista Possiamo osservare il mondo Provate a immaginare Ed è un'esperienza Che andrebbe fatta Negli istituti dei ciechi O meno Come può essere Il camminare nel mondo L'avanzare Nella dimensione interna In assenza La possibilità Di guardare E così Provate a sperimentare La stessa assenza Di qualità Nel mondo Per esempio Dei suoni Provate a pensare In un mondo Dove non possiamo Sentire suoni Rumori Musica E ancora di più Pensate Se non potessimo Sentire attraverso Il tatto Il senso fisico Che ci permette Di percepire La temperatura Di un oggetto Piuttosto che La tessitura Di un oggetto Il volume Eccetera Eccetera Quindi I sensi fisici Banalmente Ci permettono Di vivere Al meglio Apprezzare al meglio L'esperienza terrena Ma Come dire Visto che siamo Su questi sentieri Su questa pagina È importante Ricordare una cosa Che non è reale Solo ciò che noi vediamo Non è reale Solo ciò che noi Sentiamo Con le nostre orecchie Provate per esempio A pensare In questo momento Ad esempio Mi trovo all'estero Sto usando Un router wifi Come per esempio Una cosa banalissima Come può essere La rete internet Il wifi Il segnale wifi Sia così presente Allo stesso momento Anche così invisibile Ci avete mai pensato? Per esempio Tutti i giorni Noi usiamo il telefonino E Il telefonino funziona Ci permette Di inviare immagini Messaggi Fare delle videochiamate Attraverso qualcosa Che è assolutamente invisibile Oppure pensate Ai raggi ultravioletti Quelli del sole Io sono in questo momento In un posto Baciato dal sole E possiamo vedere L'effetto La conseguenza Di quella che è la luce Ma la luce La possiamo vedere Osservare? E da qui potremo Aprire mille Esempi infiniti Per esempio Gli ultrasuoni Andiamo nel mondo Delle onde sonore Tutti noi sappiamo Che ci sono Alcune specie animali Che possono sentirle E altre no Noi siamo tra quelli Che ad esempio Gli ultrasuoni Non possiamo percepirli Allora si pone la domanda È davvero reale Tutto ciò Che possiamo solo vedere E solo percepire Attraverso i sensi fisici? Indubbiamente no È molto semplice Partiamo da qui Con veramente Un approccio Molto molto elementare Molto basico Ma perché dobbiamo Come dire Aggiungere Gradino Dopo gradino Dobbiamo costruire Il nostro piccolo percorso Che parte oggi Con questa nuova rubrica Proprio per arrivare A fine percorso O magari già durante Il percorso Ad una consapevolezza Che ci permetta Di acquisire bene Gli strumenti basici Della medianità Della sensatività E anche il senso Della spiritualità Quindi Se è vero Quello che abbiamo appena detto Che non è come dire Solo reale Ciò che possiamo percepire Attraverso i sensi fisici Dobbiamo aprirci Ad un nuovo Modo di vedere Le cose Noi oggi sappiamo Dalli studi scientifici Che la materia esiste La materia esiste In quanto veramente Massa Peso Forma Eccetera Eccetera Ma non è solo composta Da come dire Quella visione di Newton Che ci permetteva Di come dire Per percepire la materia Attraverso L'idea dell'atomo Vi ricordate Che cosa ci raccontavano Gli antichi Ci raccontavano Che la materia È composta Da questo agglomerato Di atomi Che nient'altro sono Che un insieme Di particelle Con appunto Il loro nucleo all'interno E poi gli elettroni Che ci girano attorno Che vanno a costituire Appunto la materia Di conseguenza Si è sempre pensato Che qualsiasi oggetto Per esempio Io affermo in questo momento Un telefonino Il mio telefonino Si è sempre pensato Che la materia Forse qualcosa di solido Di statico Di molto anche resistente Ma in realtà I nuovi studi scientifici Le nuove frontiere Della scienza E anche della medicina E quindi sconfiniamo Nella fisica quantistica Nella meccanica quantistica E altre nuove Bellissime conquiste Appunto scientifiche Oggi noi sappiamo Che non è esattamente questo Perché? Perché noi sappiamo Che la materia E quindi anche l'atomo Prendiamo il caso Di un singolo atomo Ciò che compone La parte solida Quindi le particelle atomiche Compongono lo 0,0001 Dell'atomo stesso Provate a pensarci In un atomo La parte solida La parte come dire Che noi possiamo appunto Definire particelle C'è la subatomica Compone solo lo 0,0001 Dell'atomo stesso Allora si pone la domanda Molto semplice Molto ovvia Che è quindi Di cosa si tratta Tutto il resto Che non è compreso In quello 0,0001 Eccetera eccetera Ebbene oggi sappiamo Che tutto ciò Che compone la materia In realtà è vibrazione È vibrazione Quindi vibrazione Energia E via dicendo Se allora Questo è vero E ripeto Non ce lo dicono Dei santoni O dei ricercatori O dei medium O come dire Dei personaggi Magari sedicenti Così studiosi Ma ce lo dice Proprio la scienza Ufficiale Se questo è vero Allora vuol dire Che anche il vostro corpo Provate per esempio A prendere la vostra mano A guardarla Anche il vostro corpo Anche il nostro corpo È composto in realtà Per lo più Da vibrazione Da energia E qui si apre Come dire Un nuovo affascinantissimo Argomento Che è quello Che riguarda Il campo elettromagnetico Dell'essere umano O comunque Dell'essere vivente E quindi Poi il mondo Dei biofotoni Spesso Vi sarà capitato Nei libri Piuttosto che Nelle dirette Di altri relatori O magari In qualche firma In qualche discussione In qualche convegno Di spiritualità Spesso si dice Che come dire Noi siamo composti Dal corpo di luce Lo stesso mondo dell'oltre Ci definisce tali Corpo di luce Quante volte avete sentito dire Essere luminosi Creature luminose Che arrivano Dal mondo spirituale A chiedere contatto Bene Non sono solo Definizioni Come dire Così Un po' Esotiche O per colpire L'ascoltatore Ma sono proprio Definizioni Come dire Concrete Oggi noi sappiamo Attraverso gli studi Di egregi Ricercatori E non mi voglio annoiare Con tutta la Insomma La storia Che ci sta dietro Ma oggi sappiamo Che anche Il corpo umano Così come il corpo Vivente Delle altre Delle altre specie Emette Biofotoni Biofotoni Sono dei quanti I quanti È la più piccola Particella di energia Che può essere Appunto Misurata Quindi quantificata Da qui quanto Anche il corpo umano Emette Queste radiazioni luminose Questi appunto Biofotoni E guardate Che è molto interessante Perché da lì Si è sviluppata Una nuova branche Della medicina Chiaramente Siamo nell'avanguardia Siamo nelle nuove frontiere E anche Un po' Come dire In quello che saranno I risultati Dei prossimi decenni È stata stabilita Che c'è una correlazione Tra la quantità E come dire La frequenza costante Di questa emissione luminosa Del corpo Con le eventuali Malattie o patologie Che riguardano appunto L'essere vivente Per cui Per dirlo in maniera Molto semplice Un essere vivente In salute Emette una costante Vibrazione luminosa Che è assolutamente Misurabile Non solo attraverso Le cose un po' più particolari Come la camera Kirlian O i vari strumenti Per misurare l'aura Ma proprio attraverso Dei macchinari Di rilevamento Di luce E è stato appunto Scoperto Che nelle persone malate Magari malate Anche in forma Piuttosto grave Come ad esempio Un tumore O altre forme Molto invalidanti Del sistema immunitario Questa emanazione Questa radiazione Luminosa Viene a essere compromessa Quindi pensate Che meraviglia In futuro Speriamo Si potrà Lavorare Nel campo Della medicina Attraverso appunto Le emissioni luminose Quindi Abbiamo la conferma Che emettiamo luce E non solo Abbiamo la conferma Che emettiamo Anche onde elettromagnetiche Voi lo sapevate Per esempio Che il nostro cervello È composto Da quelle cellule Così speciali Che si chiamano Appunto Neuroni Sono delle cellule Che come dire Comunicano tra di loro Hanno una funzione Ovviamente vitale È fondamentale Per il campo Evolutivo dell'uomo Dal punto di vista Appunto cognitivo Nonché motorio E queste connessioni Che si creano Tra i neuroni Vanno a creare Un campo Chiaramente elettrico Sappiamo che il sistema Nervoso funziona Attraverso impulsi elettrici Ma sapevate Che queste cellule Che appunto Chiamiamo neuroni Non sono solo Presenti nel cervello Ma sono presenti Anche nel cuore Tanto è vero Che il cuore Che è la prima cosa Che si forma In un essere umano Quando viene concepito Proprio Può essere rilevato Dal punto di vista Elettrico E non solo Queste cellule Sono presenti Anche Le cellule Appunto Chiamate neuroni Anche nell'intestino E per questo Che si dice Che nell'essere umano Sono tre cervelli Pensate che meraviglia Il cervello Inteso come quello Quell'organo All'interno Della scatola cranica Poi c'è il cuore L'organo cuore E poi c'è l'intestino E questi tre cervelli Lavorano assieme Costantemente Ovviamente Uno è dedicato Più alle emozioni L'altro è dedicato Più all'elaborazione Delle emozioni stesse E il terzo O meglio il primo È quello dedicato Appunto ai pensieri Questo sistema Crea un campo Elettrico Che si sviluppa E si snoda Attraverso i chilometri Di nervi Di reti nervose Che sono racchiusi All'interno del nostro corpo Ma oltre a questo Oltre a questo campo elettrico C'è anche un campo magnetico È il campo magnetico Del cuore Che è assolutamente misurabile Quando si va a fare Un elettrocardiogramma Quello che viene misurato È proprio anche L'attività Oltre che elettrica Magnetica del cuore Tanto è vero Che non vi viene messa Non vi viene messo Un diodo Direttamente sul cuore Ma sulla pelle Esterno Perché si va proprio A lavorare Su queste onde Che vengono appunto Emanate Dall'organo Allora La scienza La scienza ci dice Che se un campo elettrico Viene a contatto Con un campo magnetico E quindi Senza entrare poi Nei dettagli specifici Della questione Ma L'insieme Delle due forze Creerà un campo Elettromagnetico E allora Per chiudere un po' Questa introduzione Scientifica E andare poi Sul lì Di un po' A noi più Come dire Vicini Quelli spirituali Quelli medianici Allora dobbiamo Fare un breve riassunto E dire che L'essere umano È un essere potente Perché emette luce E questo appunto Ce lo conferma Tutto il lavoro Fatto su biefotoni E non solo È un essere vivente Che è circondato Compenetrato Da questo campo Elettromagnetico Da qui possiamo Finalmente Come dire Applicare Tutte queste nozioni Tra virgolette Tecniche Al nostro mondo Pensate Quando incontriamo Una persona E questo ci capita Tutti i giorni Senza essere Grandi esperti Degli argomenti O senza aver fatto Corsi di medianità O avere particolari Doti sviluppate Quando incontriamo Una persona Noi sentiamo subito Questa persona Che tipo di energia Quante volte Vi sarà capitato Per esempio Di incontrare qualcuno E dire A pelle Questa persona Mi piace Questa persona Non mi piace Provate a pensarci Oppure Quante volte Siamo entrati In un luogo Siamo arrivati In un posto E abbiamo proprio Detto Perché era il nostro Sentire Questo posto Mi fa star bene Mi piace C'è qualcosa Che come dire Mi mette a mio agio O al contrario Quante volte Arriviamo in un posto Che non conosciamo A casa di un amico Piuttosto che Può essere anche Un luogo di culto A me è capitato Qualche chiesa E quindi Come dire La cosa può essere applicata Su più livelli Arriviamo in questo luogo E magari non ci piace Magari c'è qualcosa Che non funziona Provate a pensarci Che cosa è accaduto Semplicemente Che i nostri Come dire Campi elettromagnetici Sono venuti a contatto Con i campi elettromagnetici Di un'altra persona O di un altro luogo Di un luogo a noi nuovo E così I biofotoni Quando incontriamo Una persona Sentiamo Quella radiazione luminosa Quanto è costante Quanto a noi affine Quanto a noi È ideale E tutto questo Ci racconta Allora Com'è possibile Come dire Entrare nel sentire E non nel pensare Quando incontriamo Appunto Una persona Sono certo Che vi sarà capitato A tutti Perché È qualcosa Che facciamo costantemente Io faccio sempre Nei corsi Questo esempio No Il fatto che Per esempio Ci sono due gemelli È un esempio Molto semplice Vestiti uguali Perfettamente uguali Gemelli semesi Che si avvicinano Ad un cane Chissà perché Il cane Da un gemello Si farà accarezzare E dall'altro no Che cosa è accaduto Semplicemente Il campo elettromagnetico Del cane Ha percepito Che uno dei due gemelli Come dire È ideale Va in risonanza Con la propria energia E l'altro no Vi invito a pensarci Perché è qualcosa Che facciamo tutti i giorni È qualcosa Che proprio ci appartiene Oltre a questo Quello che possiamo Sicuramente aggiungere È il fatto che Come dire La scienza Ci porta A spiegazioni Fantastiche Per esempio Sulla medianità Io sto introducendo Un po' Degli argomenti Che poi andremo A raccontare meglio Nei prossimi appuntamenti Perché mi piacerebbe Ed è quello che anche Ho un pochino concordato Con Anna E con Enrico Mi piacerebbe proprio Prendervi per mano E con le mie parole Con i miei modi Così spero Garbati Di raccontarvi le cose Mi piacerebbe proprio Introdurvi A poco a poco Nella medianità Che è un po' Il focus E la tematica centrale Ma anche con tutto ciò Che ci sta attorno Perché? Perché la medianità Evidentemente Non riguarda solo Il nostro aspetto Spirituale Il nostro aspetto Medianico Ma riguarda soprattutto Il nostro stare nel mondo E questo non lo dice Il sottoscritto Ma lo dicono I messaggi Le decine Le centinaia Di contatti Fatti E anche ricevuti Personalmente Dove appunto Il mondo dell'oltre Racconta Come stare bene qui Il tema è sempre quello Cercate di vivere Al meglio la vita Perché è un'avventura Fantastica Che avete scelto Di vivere E di conseguenza Va Come dire Cavalcata Fino all'ultimo respiro Detto questo La scienza Dicevamo Ci riporta Una spiegazione Molto importante Molto notevole Riguardante appunto La medianità Questa spiegazione Questo Come dire Il tema Che vi vorrei Introdurre E poi Entriamo magari Un po' nel vivo Anche delle vostre domande O di cose Che emergeranno Se il mondo dell'oltre Ha voglia di Farsi percepire A quello di cui Mi sto riferendo È appunto Il famoso Famosissimo Teorema di Bell O detto anche Entanglement Sono certo Che è qualcosa Che tutti voi Conoscete O avete già Comunque In qualche maniera Percepito Per dirla Molto semplice Perché appunto Non vorrei perdere I miei tecnicismi Nel teorema di Bell Quello che Viene spiegato È che Due particelle Facciamo finta Per Proprio Semplificare al massimo Una pallina blu Una pallina rossa Due particelle Che sono state In contatto Almeno una volta Nella vita Nella loro vita Queste due particelle Se Vengono Appunto In contatto E a un certo punto Vengono Separate Divise Quello che accade Che Come dire Crolla Il paradigma Spazio-temporale Facendo in modo Che queste due particelle Rimarranno sempre In connessione Per sempre Ovunque Essie si trovino L'esempio che si fa Molto semplice È il seguente Le famose particelle Di cui Sopra Quindi quella blu E quella rossa Le separiamo Le portiamo Una la portiamo Per esempio Sul sole E una la portiamo La lasciamo qui sulla terra Così almeno Andiamo anche a Semplificare Queste due particelle Si dice Essendo state in contatto Rimarranno sempre In stretta relazione Questo è l'entanglement Proprio la connessione E quindi Se per caso Qualcuno di voi Si trovasse sul sole E potesse dare Ovviamente Un'immagine simbolica Così Una specie di sbuffo Una piccola Sberla Alla particella Che si trova sul sole Istantaneamente Quel movimento Che la particella Andrebbe a fare Di rotazione A causa Della vostra Sberla Del vostro tocco Istantaneamente La particella Che si trova Sulla terra Andrebbe a fare La stessa identica Rotazione Lo stesso identico Movimento Nello stesso identico Momento In cui la fa una La fa anche l'altra Non esiste La distanza Per cui Anche se la luce Pensate questa cosa Ci mette circa 6-7 minuti Per arrivare Dal punto al sole Alla terra Un raggio Ci mette Un raggio solare Ci mette dai 6-7 minuti Per approdare Sulla terra Questo gap temporale Non esiste Neanche nel mondo Dell'entanglement Quindi Istantaneamente Se voi pizzicate La pallina Che si trova Sul sole Così La pallina Che si trova Sulla terra Reagirebbe Allo stesso momento Perché introduciamo In maniera Molto 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 Blanda Questo Questo Teorema Sarà bello Poi spiegare altre cose Ma magari lo faremo Nel corso Dei prossimi incontri Lo spieghiamo perché Questo per esempio Va a spiegare Molto bene La correlazione Che c'è tra tutti noi Per esempio Quanti di voi In ascolto Hanno vissuto L'esperienza In maniera diversa O diretta O l'hanno Come dire Sentita raccontata Di una madre Che per esempio Sta dormendo All'improvviso Si sveglia E sente Che al figlio Sta capitando qualcosa Quindi entra In agitazione E guarda a casa In un giro di pochi minuti Magari riceve una telefonata Perché il figlio Insomma Non sta bene Le è capitato qualcosa O cose ben più Gravi Magari un incidente Eccetera È qualcosa di molto comune Provate a pensarci State pensando A un vostro amico E il telefono squilla Magari è un amico Che non sentite da tempo E proprio in quell'istante Vi chiama quella persona Ho il classico esempio No? Come la madre e il figlio Anche due gemelli Uno si trova magari In Australia Uno si trova in Europa Uno ha mal di denti E anche quell'altro Ha mal di denti Vi sarà capitato Sono certo di sì Perché sono fenomeni Molto comuni Quindi Tutto questo Viene spiegato Appunto Dalla scienza Attraverso questo Teorema di Bello Detto Entanglement Quindi se due Particelle Immaginate Quindi anche i due corpi Una madre e un figlio Due fratelli gemelli Ma anche due amici Due amici che soltanto Per una volta Sono venuti a contatto Se comunque Due forme energetiche Vengono appunto In contatto tra loro Tra di loro Si sviluppa un legame Che si come dire Manifesterà per sempre Al di là Dello spazio e del tempo Allora questo Ci porta ad una Conclusione molto semplice Ma anche molto affascinante La comunicazione tra i mondi Quella che noi chiamiamo Medianità È possibile Proprio per questo motivo Perché al di là Dello spazio e del tempo Se noi siamo stati a contatto Con qualcuno Che in questo momento Si trova Da un'altra parte Intesa come un'altra dimensione Inevitabilmente Sarà possibile Creare la connessione energetica Per lo stesso identico motivo Questo volendo Spiega anche Un'altra cosa Decisamente affascinante E al quale Pensiamo raramente Tutti noi Proveniamo Dalla stessa identica Fonte È quello che Fin da ragazzini Ci raccontavano Essere il Big Bang Ve lo ricordate? Un'unica particella Anche qui È sempre la scienza Mi piace come dire Richiamare a noi Il supporto Concreto Pragmatico Della scienza Affinché mettiamo Delle basi solide Per il nostro cammino Che faremo In questa rubrica Cosa dall'altro mondo Quindi se tutti noi Proveniamo Da questa unica particella Che a un certo punto Si è Come dire Irradiata Irradiata di grande energia Le esplose Ha creato Tutto l'universo Visibile ed invisibile Ebbene Se tutti noi Arriviamo da lì Vuol dire che Allora tutti noi Siamo stati Per una volta In connessione Con tutto il resto Provate a pensarci Il Big Bang Ci racconta esattamente Questo Noi siamo stati Tutti noi Almeno una volta In connessione Ed è per questo Che quando incontriamo Le persone Possiamo sentire Possiamo avvertire Attraverso anche La nostra sensitività Le nostre facoltà Le nostre facoltà Extrasensoriali Però è molto semplice È molto facile Semplicemente Non siamo soliti Farlo Non siamo abituati E allora Questo ci racconta Anche come le dimensioni Visibili ed invisibili Sono in stretta correlazione Proprio perché Tutta origine Da un'unica fonte E allora Un po' per chiudere Questa introduzione Pensiamo energia Quindi biofotoni Campo elettromagnetici E l'origine Appunto comune Detta Big Bang Provate a pensare Come tutto questo Ci è stato raccontato Già da tanti Tanti secoli Da millenni Dalle grandi culture E dalle grandi filosofie In giro per il mondo Il campo elettromagnetico Che oggi è misurabile Dell'uomo È quello che un tempo Veniva chiamato Laura Per cui Nei veda Già nel 3000 A.C. Quindi sono testi sacri Che hanno più di 5000 anni Già nei veda indiani Si racconta Di questo campo Elettromagnetico Di questa aura Dei corpi sottili Che compenetra E che circonda L'essere umano Ma pensate per esempio Banalmente Alle aureole Che Nel nostro mondo cristiano Vengono appunto Affisse Ai santi Ai beati A tutti coloro Che magari hanno ricevuto Una grazia Che cos'è quella Se non la rappresentazione Dell'energia Che ci Compenetra Provate a pensarci E così come anche La comunicazione appunto Che avviene attraverso L'entanglement Quindi Quell'uno Originario Ma tutte le religioni Provate a pensarci Raccontano sempre Di questo Di questa sorgente Creatrice Nel nostro mondo Cristiano-Cattolico Chiaramente Questo Dio Che in sette giorni Ha creato L'universo E in altre visioni Saranno chiaramente Altre creature Molto affascinanti Salve bello Magari una puntata La faremo dedicata Anche alle varie Cosmogonie Come sono nate Secondo Le varie filosofie I vari universi Le varie dimensioni Ma sappiate che Il denominatore comune È sempre quello C'è una fonte Unica Primaria Primordiale Che dà origine A tutto il resto Quindi Oggi la scienza Ci è arrivata un po' In ritardo E ce lo conferma Con il Big Bang Da quell'unica particella È stato creato Tutto il resto Ma alla stessa stregua Filosofie Religioni E credenze In giro per il mondo Sono millenni Che ci raccontano questo Quindi stiamo vivendo Un momento storico Bellissimo Tanti argomenti Sono sdoganati Ora si tratta Chiaramente Di fare un po' Di pulizia Forse perché c'è Anche fin troppo Consomismo Spirituale Ma certamente Insomma Abbiamo la possibilità Di capire meglio Chi siamo Come siamo fatti E come funziona Tutto questo mondo invisibile Che ci circonda Ed è come dire Il nostro piccolo desiderio Mio Di Arne Di Enrico Con questa rubrica Accompagnarvi In questo viaggio Il mio è solo Come dire Un piccolo contributo Che si unisce A tanti relatori Che già sono presenti Su questa pagina E quindi come dire Tutti insieme Cerchiamo in qualche maniera Di offrire un servizio Che vi possa aiutare E che ci possa aiutare Perché cresciamo tutti insieme A vedere il mondo Come qualcosa di affascinante Di molto più profondo E interessante Rispetto a quello che Come dire Ci viene offerto Dai nostri sensi fisici E per concludere Poi inizierò a leggere Qualche domanda E per concludere Sappiate che quindi Il percorso che faremo assieme Ci farà addentrare Sempre di più Nella possibilità Di affinare Le capacità appunto Estrasensoriali E quelle che noi chiamiamo Nel nostro mondo Nella medianità I nostri sensi psichici E quindi la possibilità Di interagire con l'energia Di percepire l'energia E andare a vedere appunto Se riusciamo tutti insieme Ad andare in quella direzione Sappiate che Giusto per chiudere La medianità È qualcosa che accompagna Da sempre L'essere umano Ma così anche Come dire Il contatto con l'oltre Se pensiamo Per esempio Banalmente Mosè I dieci comandamenti Come li ha ricevuti? Attraverso una canalizzazione No? Vi ricordate Sali al monte E attraverso La voce di Dio E quella non è Una canalizzazione Assolutamente sì Ha scritto I dieci comandamenti Che sono proprio Il pilastro O se vogliamo L'architrave Sulla quale appoggia Tutta la La fede cristiana Ma da lì Possiamo estenderci Pensiamo Alle doti Da guaritore Di Gesù E via dicendo Quindi la medianità È qualcosa che accompagna Da sempre l'uomo Si è manifestata Sotto varie forme A volte anche passando Poi per Come dire Momenti Oscuri Pensiamo a tutto Il Medioevo La caccia alle streghe Eccetera eccetera Per poi arrivare finalmente Probabilmente L'umanità era pronta Ad un momento di risveglio Quindi Racconteremo Magari la prossima volta Che racconteremo Un po' di più Il percepire L'energia Racconteremo come La medianità di oggi Lo spiritualismo moderno Nasce dai fenomeni fisici Quindi i colpi sul muro I raps Le sorelle fox Eccetera Per arrivare E concludo Finalmente La medianità di oggi Che è telepatica Tutti i medium Anche sottoscritto Come dire Lavoro attraverso La propria mente Attraverso La ghiandola pineale Attraverso Come dire Le capacità elettromagnetiche Dell'essere umano Ma tutti insieme Ed è lì che volevo arrivare In conclusione Siamo destinati A quello che sarà Il prossimo Importantissimo Capitolo Della medianità Quando ciascuno di noi Avrà Come dire Riacquisito Le proprie facoltà Extrasensoriali E questo piano piano Ci stiamo arrivando Ci vorrà Probabilmente qualche anno Forse qualche decennio Ma ci arriveremo Perché vedete Oggi come si parla Facilmente di medianità E come tutti Possono percepire Fanno corsi E possono parlare Con il mondo dell'oltre Ecco Quando tutta l'umanità Sarà allineata Il mondo dell'oltre Da sempre Ci racconta Questo Che Si approderà A quella che viene Chiamata La medianità Ultrafanica Che è un termine Un po' particolare Vuol dire Oltre la luce Ultrafanica E di conseguenza Sarà la medianità Degli insegnamenti Un po' come Già qualcuno Per ricordarne Uno fra tutti Il nostro amatissimo Roberto Setti Circo Firenze 77 Quel tipo di medianità In cui si ricevono Gli insegnamenti Nobili Preziosi Filosofici Quelle indicazioni Veramente Profonde Per rendere La nostra vita terrena Indubbiamente Come un'avventura Spirituale Fantastica Quando l'umanità Sarà pronta Quando avremo vinto Il tabù della morte Quando sapremo tutti Con certezza Che Quel passaggio finale Appunto È solo una soglia Verso nuovi mondi Allora Arriverà la possibilità Di ricevere Questi massaggi Evidentemente Oggi Siamo ancora Un pochino indietro E dobbiamo Un po' tutti Dare il nostro contributo Per Appunto Prepararci A quel momento Adesso Mi piacerebbe Leggere qualche frase Io C'è qualche domanda Io Purtroppo Mi faccio prendere Dai miei discorsi Mentre parlo Un po' Canalizzo Quindi non ho letto Le domande Se avete piacere E magari Appunto Con domande Pertinenti Provate a scrivermi In questo momento E vediamo appunto Se è il momento Di aprire Lo spazio Alle domande Questa tavola Rotonda Vi prego Di rimanere Nell'ambito Della tematica Oggi abbiamo parlato Dell'energia Del fatto che Non siamo solo Un ammasso Di organi Di ossa Che cammina Ma c'è molto di più E questi biofotoni Questi campi elettromagnetici Questa aura Questi corpi sottili Ci permettono Di interagire Nel mondo Adesso Io sto leggendo Qualche domanda Non me ne vogliate Ma mi piacerebbe Rimanere appunto Nel tema Quindi Vedrete che avremo Modo di raccontare Anche di altre cose Se è possibile Se avete curiosità Se no io vado avanti E naturalmente Da questo momento Invito anche il mondo Dell'oltre A manifestarsi Perché è sempre Un piacere per me Accogliere E sappiate che Il mondo dell'oltre È sempre presente Anche qui Medium Me compreso Dobbiamo Iniziare Come dire A Usare dei termini Nuovi Diversi Non è che noi Come dire Invitiamo il mondo Dell'oltre A avvicinarsi O il mondo Dell'oltre Deve arrivare Loro sono sempre 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 Presenti Quello che cambia Chiaramente È la nostra Personale Capacità Di percepirli Che cosa voglio dire Con questo Beh Non sempre Siamo sintonizzati Un po' come Non sempre Quando siamo in relazione Con qualcuno Se avete un marito Una compagna O un figlio Un amico Insomma Quando siamo in relazione Con l'altro Non sempre Siamo in sintonia Vi è mai capitato Magari si può anche parlare Discutere Ma manca un po' Quella magia profonda Ecco È quella Sintonizzazione Quel collegamento profondo Che rende l'incontro speciale Ed è così Che Appunto Fa anche il mondo Dell'oltre Loro sono sempre presenti Immaginate di avere un amico Sempre davanti a voi Sta però a noi Medium O comunque persone Riuscire a sintonizzarci E rimanere sempre lì È qualcosa che possiamo fare Con molta facilità E con molta Anche con molta gioia Ma non sempre è possibile Per vari motivi A volte Per come dire Perché il medium Magari ha la mente Occupato da altro O c'è Un altro movimento Intorno Oppure Perché magari Il mondo dell'oltre In quel momento Attraverso quell'insegnamento Cioè Scusate Quel silenzio Quell'assenza Vuole dare un proprio Insegnamento È un po' come quando In maniera molto brutta Si prende un bambino piccolo E lo si butta in acqua Sperando che possa notare Non c'è qualcuno Che può Come dire Aiutare il bambino A fare quei movimenti Il bambino In maniera istintiva Li fa E ricerca Un proprio modo di respirare Un proprio modo appunto Di stare a galla Così fa il mondo dell'oltre Almeno questo è quello che Ho imparato io Nel corso Di questi anni Nella mia relazione Con il mondo dell'oltre A volte Sta come dire Fa un passo indietro Ci guarda Ci osserva Sembra che sia assente Ma in realtà Ci sta solo Come dire Invitando A camminare Con le nostre gambe Ma sappiate Che loro ci sono Sempre Quindi Ripeto Se avete Se avete necessità Di qualche Come dire Informazione in più Riguardo alle energie I biofotoni Ai campi elettromagnetici A come funziona Il nostro sistema Io sono qui a disposizione E se no Quello che voglio dire È che sicuramente Il mondo dell'oltre Inizia a farsi Farsi strada Sto leggendo un po' Di domande Che sono un po' Fuori tema Non me ne vogliate Ripeto Mi piacerebbe rimanere All'interno del grande capitolo Siamo energia L'energia Ecco sto leggendo ora Viene a mancare Subito dal corpo Appena trapassato O rimane ancora Per qualche ora Questo è un grande tema Molto affascinante Perché per molto tempo Per molti secoli Pensate per esempio Nella cultura egizia Ma non solo Anche nelle culture Precolombiane Si è pensato Che Come dire Lo spirito O l'anima Anche qui Poi impareremo A usare i termini giusti Perché sono due cose Molto diverse Ad ogni modo In quelle culture antiche Si pensava che Lo spirito Di quel corpo deceduto Rimanesse Per qualche tempo Addirittura Viene quantificato Secondo le culture Nella cultura buddista Per esempio Si dice 72 ore Si è andato in India Si dice che devono passare Tre giorni Prima di cremare il corpo E via dicendo Per cui ci sono varie Scuole di pensiero Così come appunto Se pensate Nell'antica egizia Nella civiltà Precolombiane Veniva proprio preparato Il viaggio nell'oltre Attraverso Gli utensili Attraverso le armi Attraverso il cibo Lasciate intorno alla sauna Oggi quello che sappiamo Ed è quello che Il mondo dell'oltre Viene a raccontarci Nei contatti Quindi io parlo Come dire Per esperienza diretta Per quello che può essere Il mio umile lavoro Con la medianità E quello che sappiamo È che in realtà Lo spirito Nel momento in cui Il corpo Cessa le proprie funzioni vitali Si trova già Dall'altra parte Dall'altra parte Significa Si trova in quella zona Intermedia E lo vedremo anche qui Mi piacerebbe fare una puntata A riguardo In una zona intermedia Che tutti voi Magari avete già In qualche modo Conosciuto Conosolare Il film Tratto dal libro Di Circo Savie Canalizzato da questo Grande medium Brasiliano Quindi in quella zona Che viene chiamata L'umbral In altre culture Il Kamaloka Il Bardo Il Purgatorio Quindi si tratta Di una zona intermedia La quarta dimensione Dove non solo Veniamo accolti Appena Lasciamo Abbandoniamo il corpo terreno Ma è quel frangente Di spazio e tempo Ricordatevi Che è un modo di dire Perché dall'altra parte Non c'è più spazio Non c'è più tempo Ma in un modo È quel frangente In cui tutti noi Andremo a rivedere Il film della nostra vita Andremo ad aprire I registri alcascici Andremo in qualche maniera A fare i conti Con quello che abbiamo Combinato Durante la nostra avventura terrena E qui è sempre bello Citare il nostro amato Steiner Quando dice che Riceveremo lo spinto Di chi abbiamo spinto Quindi riliveremo Le nostre Esperienze terrene Attraverso le emozioni Che abbiamo generato A chi abbiamo Come dire Avuto attorno Per cui se sono stato Nel corso della mia vita Un marito violento Magari traditore Bugiardo Ovviamente sto estremizzando Ecco il dolore Inflitto Alla mia moglie Come dire Nell'oltre Sarà l'esperienza Emozionale Che io andrò a percepire Quindi non solo Vedrò questo film Ma sentirò Il dolore procurato Così come In ugual misura Proverò gioia E amore Qualora nella mia vita terrena Abbia avuto occasioni Per Come dire Far provare Questo tipo di emozioni Quindi per tornare La domanda Che ho già perso Ecco qua L'energia viene a mancare Subito dal corpo Sì Per quello che riguarda La visione spiritualista Moderna Quindi La visione Di tutti i medium Che Tendenzialmente Conoscete anche voi Oggi Qui in Italia O in Europa La nostra esperienza Ci dice che sì L'energia viene rilasciata Subito Proprio per questo motivo Cioè Nel momento in cui Lasci il corpo La tua energia È già dall'altra parte Dunque Come si fa a gestire Utilizzare la nostra energia È nostro vantaggio Beh guarda Ti dico Subito una cosa Iole Fai molta Tra riguarda attenzione A questo termine È nostro vantaggio E te lo dico Perché mi è arrivata Una ventata Dall'oltre Perché tutti noi Siamo in stretta Correlazione Con Con l'altro In questo Genericamente Altro Ed è importante Ricordarsi Che siamo Come dire Qui E dobbiamo Mantenere Alta Alto il valore Della responsabilità Personale Quindi Tutto ciò che facciamo Diciamo Pensiamo In maniera Molto quantica Si riverbera Si riverbera Sull'ambiente Circostante Sulle persone Circostanti E anche Sulle generazioni Future Quindi Tolto il discorso Di nostro vantaggio Che stride un pochettino Con un percorso Di crescita Spirituale O di medianità Per gestire La nostra energia Beh intanto La prima cosa È preservare il corpo Perché il corpo Si dice essere Il tempio Dell'anima E quindi Sarebbe utile Poi so che sembrano Come dire Consigli molto Generici Ma in realtà Mica tanto Sarebbe molto utile Nutrire il corpo Accudire il corpo Fisico Ovviamente Un po' di movimenti Eccetera Ma al di là di questo Quello che bisogna Assolutamente fare È Come dire Approfondire La stretta relazione Con il proprio sentire Questo è importante Perché siamo Troppo nella mente I medium inglesi Quando si va a studiare Su al college Dicono sempre Pensare Non è Connettersi Thinking Is not linking Quindi Cercare di Come dire Entrare In un Sentire Molto più profondo Molto più spontaneo E tanto è vero Che per esempio Nel Vangelo di Matteo Quello che viene detto È che i beati I puri di cuore Perché vedranno Dio E perché Si dice questo Cosa vuol dire Beati di cuore Proprio quelle persone Che agiscono Di pancia Agiscono Per sentimento Che come dire Abbassano Il coraggio Di abbassare Il muro Che li separa Dalle loro Emozioni Quindi Per rispondere Definitivamente Alla tua domanda Come si fa a gestire E utilizzare La sinergia Beh Si fa Entrando in stretta Correlazione Con il proprio sentire E di conseguenza Iniziare a Far come dire Conciliare le pace Luci e ombre I nostri talenti I nostri spiriti I nostri limiti In questa maniera In qualche maniera Prendiamo consapevolezza Di chi siamo Lucia È possibile percepire La propria energia Che si espande E poi si richiude Mi è capitato Alcune volte In modo spontaneo Quello che sentivo Era del tutto inaspettato Certamente sì Certamente sì Proprio per il fatto Che siamo come Delle antenne Ricettrasmittenti E anche nella medianità Non possiamo rimanere Connessi 24 ore Su 24 Perché? Perché proprio Sono onde Che si muovono C'è proprio come dire Una legge fisica Che immagina La frequenza d'onda Che ci insegna Che la connessione Va su e giù Un po' come Un wifi Che non può essere Collegato 24 ore Perché magari Avete un abbonamento Di poche ore Beh La medianità È un po' uguale Quindi difidate Anche di chi vi dice Che è costantemente In contatto con il mondo Dell'oltre 24 ore su 24 Perché c'è anche Un dispendio di energia Che non è possibile Quindi sì Assolutamente sì Lucia Questo su e giù È corretto Iole ok Rosario Chi non è medio Ma a volte Riesce a percepire L'energia Che è proprio caro Nell'oltre Fino a qualche mese Dopo il trapasso Perché le sue energie Sono ancora abbastanza dense Nell'ambiente in cui ha vissuto Allora Guarda Caro Rosario Qua si aprono Chiaramente Le mille strade Delle mille scuole di pensiero Io sono qui Posso solo E semplicemente Raccontarvi la mia esperienza Forte del fatto Che so di non avere La verità assoluta in tasca E che sono qui A condividere Solo quello che Come dire Ho appreso nel mio percorso Che è fatto Chiaramente anche Di fallimenti Di successi Eccetera eccetera Per quello che ti posso dire Non è tanto Che l'energia Di un tuo caro trapassato È più o meno densa A seconda di quando È capitato Il decesso Per usare questa parola brutta Quello che succede Al contrario Come abbiamo detto Poc'anzi È che magari C'è un senso Anche A quella apparente Assenza Del tuo caro Io ricordo Una volta Facendo Un contatto Con mia sorella Abbiamo entrambi Che in quel momento Che in quel momento Aspetta un pochettino Aspetta un pochettino A farsi sentire Alberto Ma i corpi Di cui siamo costituiti Fisico Eterico Astrale Mentale Quindi tutti i corpi energetici Differiscono per la loro Frequenza vibratoria E sarebbe possibile Misurare le varie frequenze Grazie mille Assolutamente Sì Sono i corpi sottili Sono quelli strati Diciamo un po' Come se fosse una cipolla Che compongono l'essere Si dice Nella visione Yogica Vedica Essere appunto Il campo aurico Tu li hai citati Sono anche di più Perché c'è il corpo buddico Il corpo divino Per arrivare appunto A comprenderne sette E sono come delle matriosche Ognuno ha una propria vibrazione E una frequenza specifica Ma non solo Ha proprio un valore diverso Tant'è vero che Secondo alcune visioni Quando noi trapassiamo Visto che è un argomento Che vi piace molto Quello del passaggio Quando noi trapassiamo A poco a poco Abbandoniamo i vari corpi Si dice Un po' come una mongolfiera Scusate L'esempio forse un po' Brutale Ma si usa A raccontare questo Un po' come una mongolfiera Che lascia andare A poco a poco I vari sacchettini Delle zavorre E questi sacchettini Delle zavorre In questo esempio Nella mongolfiera Sono appunto i vari corpi Quindi prima il corpo fisico Che è quello più denso Indubbiamente È quello Come dire Più pesante Poi il corpo eterico Che è il corpo energetico Che dà forma Al corpo fisico È quella specie Di nebbiolina bianca Che tutti noi vediamo E se non siamo in grado Di vederla Perché pensiamo Di non avere doti Vedrete che nel corso Del tempo Impareremo anche Grazie a questi incontri A farlo Il corpo eterico Poi si passa appunto Al mentale Che è il mondo Dei pensieri Tutto quello che abbiamo pensato Ragionato Con la nostra logica Il nostro razziocinio Nel corso Della nostra vita terrena Il corpo ovviamente Emozionale Che è quello Che ha a che fare Con l'emozione E poi l'astrale Il buddico Il divino Quindi a poco a poco Questi strati Queste vibrazioni Si alleggeriscono Fino a quando Come dire Siamo totalmente Appunto Liberi E torniamo a essere Vibrazione pura Quindi Caro Alberto Sì ti confermo Che hanno varie vibrazioni Nonché anche una Specifica Missione diversa Mentre coloro Che rimangono attaccati Alla materia Tipo fantasmi Anche qui Accenno brevemente Perché poi sono argomenti Che andremo a vedere Più avanti Nella visione nostra Di medium spiritualisti I fantasmi Sono un'emanazione Energetica Un'impronta energetica Che viene lasciata Sul luogo Ma non sono spiriti Noi sappiamo Facciamo sempre Questo esempio Per esempio La principessa Che si è buttata Giù dalla torre Voi andate in un castello E vedete questa scena Qualche medium Se il sitivo Vede questa scena Una cosa molto interessante Perché a differenza Di un contatto medianico Quando entriamo in contatto Con questa memoria energetica Che si esprime nel tempo Noi vedremo sempre La stessa scena Tanto è vero Che nei castelli infestati Uso il virgolettato Si dice Che si sentono sempre Il rumore di catene Le porte che sbattono Oppure a tal giorno A tal ora Ogni volta All'anno Capita Che quello spettro Si manifesti Certo Perché è un'espressione energetica Di una memoria del tempo Quindi non è uno spirito Che si sta manifestando Ma semplicemente Come abbiamo detto Poc'anzi Avendo noi energia Se c'è un evento Soprattutto tragico Ecco che lasciamo Quell'impronta Nell'ambiente Dove è accaduto l'evento E questo è molto interessante Perché Come dire È qualcosa Che ci dimostra Il grande percorso Fatto da personaggi Come Masaru Emoto No Vi ricordate La memoria dell'acqua Noi possiamo imprimere Un'energia Un'indicazione energetica Ad un oggetto In questo caso L'acqua O un ambiente Per esempio Il castello Della principessa di prima E lasciare appunto Un'impronta E da lì Fare dei lavori importanti Con l'energia Dunque 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 Vediamo se ci sono Grazie per quello che scrivete Ma salto Anche gli animali Che di salvo Sono parte di questi processi Totalmente sì Io poi personalmente E devo dire Che è un grande piacere Leggendo Steiner Ho ritrovato alcune idee Che nel corso del tempo Mi sono fatto Personalmente Ho la mia Come dire Idea Riguardo ai vari regni Animale Vegetale Minerale E quant'altro Appunto Con riferimento All'energia Dal punto di vista evolutivo Energeticamente E spiritualmente parlando Per me Naturalmente È un mio personalissimo pensiero Che condivido Senza la pretesa Di convincere nessuno Il regno vegetale In assoluto È il regno Spiritualmente più evoluto Sono creature Che donano Tutto quello che hanno Che vivono di luce Di acqua Subiscono Tra virgolette Le intemperie Senza ribellarsi Quindi Veramente Come se fossero fuse Con il tutto E hanno imparato A come dire Restare nell'amore incondizionato Offrono i frutti Offrono i fiori Si offrono Alle stagioni E come dire Si lasciano vivere E naturalmente Garanti solo noi Paesaggi bellissimi Secondo me In secondo luogo Ci sono gli animali Il regno animale Tolto l'essere umano Anche qui Essere che vivono Di amore incondizionato Chi ha un cane Un gatto O anche altre forme Altre specie Sa benissimo Di cosa sto parlando E poi Come dire In ultima analisi Arriviamo noi Che siamo molto più complessi Con il nostro ego Con la nostra parte psichica Intesa come psiche E con tutte insomma Le battaglie personali Che ciascuno di noi fa Avremo modo magari Di parlare anche Anche questo Grazie per quello che scrivete Io vi chiedo scusa Non voglio essere scortese Ma mi piacerebbe appunto Lasciare spazio Alle domande pertinenti Alla tematica di oggi Che è l'energia Caterina L'energia quanto tempo Rimane nella stanza Della sua dipartita? Beh ti direi per sempre Perché appunto L'energia non conosce Spazio e tempo Per cui se avete Come dire Una stanza Dove il vostro caro Usava passare Il proprio tempo Dove ci sono i suoi oggetti Eccetera Sappiate che Anche attraverso La psicometria Attraverso Tutta una serie Di tecniche Medianiche Voi potete proprio percepire L'energia del vostro caro Ok Quindi Il concetto di fine O per quanto tempo Quando siamo nei binari Della spiritualità E della medianità Perdono Di significato Perché Appunto Questo paradigma Ha senso Da dove c'è un corpo Una massa Dove c'è un peso E tutto ciò Accade nella terza dimensione Piano piano Ne parleremo Perché altrimenti Mettiamo poi Mortissima carne Al fuoco Allora Volevo dirvi Che io inizio a percepire Una signora E mi viene un po' Da sorridere Perché Adesso ve lo spiego È una signora Che porta gli occhiali È una signora Piuttosto minutina E dico Mi viene da ridere Perché porta il nome Di mia madre Ma non è mia madre Quindi ho qui Una signora Carla Che si sta manifestando Proprio davanti a me Quindi o guardo lei O guardo voi Ma comunque Insomma La sto vedendo Ed è una signora Molto buffa Nel senso che È una di quelle signori Io non amo molto Parlare di questi dettagli Chi mi conosce Lo sa Ma in questo caso Evidentemente È proprio qualcosa Di particolare Perché ama mettere Per esempio Le gonne Io spero di dirla bene Perché nella moda Sono negatissimo Quelle avalse Ma soprattutto scozzesi È questo l'elemento È una signora Di una certa età Siamo sui 60 anni Quindi vi chiedo Se avete Tra i vostri cari Questa signora Carla Perché È abbastanza Come dire Impellente Abbastanza Così Incalzante Nel suo chiedere Contatto È una signora Si chiama Carla È abbastanza Minuta Sui 60 anni E ha questa necessità Impellente Di parlare So che è anche una zia Perché mi racconta Di nipoti Ma non come nonna Come zia Quindi Lascio a voi Assi purtroppo I contatti qui Su Facebook Hanno sempre dei tempi Un po' particolari Se conoscete Questa signora Fatemi Fatemi appunto Sapere Se no Io vado avanti Perché ripeto Ho un tempo di latenza Un po' particolare E quindi Non so Non so Se state ascoltando In tempo reale O se c'è un gap Quindi la tengo qua E a proposito È una cosa che non faccio mai Ma vedo In collegamento Sandro Io avevo una zia Che si chiama Carla Ok Cara Daniela Mi sai dire questa cosa È una signora Ti torna La descrizione È una signora Abbastanza Minuta Più che altro È molto buffa Come si presenta Quindi deve aver avuto Anche un po' Un avverbe Di un certo tipo È una certa personalità Ok Sandra Adesso arrivo Daniera Fammi sapere Se ti tornano Anche gli altri dettagli Siamo sui 60 anni Anche se le dai Qualcosa Di relativo So che appunto È una zia Perché mi Mi parla di questo Quindi Zia Carla Ho bisogno di sapere Cara Daniela Se ti torna Il resto Credo che se ne sia andata Per malattia Dico credo Perché inizio a vedere Mi fa vedere La sua pancia E mi fa vedere Come qualcosa Che così Si stritola Quindi non me lo sta dicendo In chiaro dienza Cappelli arancione rame Bene Dimmi se ti torna Ha una personalità Di un certo tipo Potrebbe Manziacarla Alganessa 70 anni Minuta Ok Allora ne abbiamo due Dovrebbe essere una persona Vi do un altro dettaglio Che amava leggere O che aveva a che fare Forse per lavoro Con libri O con documenti Comunque una persona Di un certo Come dire Di un certo tono Non una donna semplice Aveva un tumore al fegato Molto bene Perché ho visto qualcosa Daniera mi sai dire Se aveva questa Personalità Piuttosto Spigliata Brillante E appunto Sì Siamo andata per malattia Mia zia Carla Ok C'è un testa testa Tra Daniele e Vanessa Bene Adesso Io lascio il mondo dell'oltre Raccontare Ascolta Daniele E ascolta Vanessa Vi ricordate Se questa zia Sferruzzava Se faceva qualcosa Con l'uncinetto E se c'è anche Una coperta Fatta da lei Mi dà questo dettaglio Un po' particolare Quindi non so Se è qualcosa Che è stato dato a voi O se lo faceva lei Per i fatti suoi Ma sapete Quelle coperte Fatte a pezzettoni Questo sì Daniela È un sì Per la coperta Perché Loro sanno Dove portarci Dove indirizzarci Quindi Chiedo scusa A tutti gli altri Purtroppo I contatti in diretta Hanno questo svantaggio Di avere dei tempi Un po' lunghi Quindi Vi chiedo Daniela Coperta Non ricordo Ma cucina molto Fatemi sapere Se ricamava Se faceva qualcosa Con i ferri O se non è lei Se c'è un ricordo Legato a questa coperta Fatta a pezzettoni Come si dice Di Come si dice Come si dice C'è un modo Di patchwork Come se fosse un patchwork Tanti pezzettoni uniti E creava con le mani Ok Daniela Ti torna questa cosa Così siamo Un po' Ah Cuciva Non cucina Ok Perfetto Va bene Va bene Va bene Allora Daniela Siamo Siamo con te Ascolta Daniela La prima cosa Che ti voglio dire E sai bene Che quando il mondo Dell'oltre Si manifesta Come dire È sempre molto Solare Esatto Peccio Quell'avete scritto È sempre Molto solare Eccetera Eccetera Mi sta dicendo Di fare attenzione I tuoi occhi Nel senso che Magari è semplicemente Un calo di vista Magari non è niente di che Quindi non voglio Creare alarmismi Però Cerca di prestare Attenzione Ai tuoi occhi Perché è importante Che tu Appunto Inizi questa cosa Non so se porti gli occhiali Non ti conosco Non so se è il caso Di andare a fare una visita Però mi racconta di questo La prima cosa La seconda cosa Che mi sta dicendo E qui sarai tu A dirmi Dice di Essere molto più leggera In realtà Fa un esempio specifico Che ti voglio fare Perché magari Ha un significato Perché mi sta dicendo Di vivere Al meglio Le festività natalizie Non so esattamente Cosa voglia dire Non so se Hai smesso di festeggiare Il Natale O se è successo Qualcosa Natale Ma Sta chiedendo Per favore Di tornare A festeggiare Quel periodo In maniera Molto più leggera Allora Vanessa Vanessa ha recuperato Perché diceva La sorella Speroziano Faceva coperte Per i nipoti Oddio Allora Allora vediamo Io non chiedo mai Chi mi conosce Sa che sono Di quei medium Che non fa mai Le domande All'oltre Perché se il mondo Dell'oltre Ha bisogno di specificare Lo farà Vanessa Grande Daniela Perfetto Mi dite questa cosa Chiedo scusa Perché così Tagliamo la testa al toro Ma ho bisogno Anche io Dei riscontri Io non guido Dice Daniela Perfetto L'altra Vanessa Invece Anche se non guidi Non sei stata A bordo Di una Macchina Che ha fatto Un incidente Oddio Non ne usciamo più Daniela Forse sei più veloce Che tu Mi sai dire Questa cosa Se sei Stata a bordo Di un tamponamento E Se no Aiuto Non sappiamo uscirne Una volta Con l'ex marito Va bene Mi stava bene Se Vanessa Non risponde Io direi Di proseguire Con te Perfetto Niente di che Non parliamo Di un grande accidente Però parliamo Di un tamponamento Perché mi ha fatto Vedere questa cosa Ok Quindi Cara Daniela Siamo con te Visto che hai già detto Del Natale Io adoravo Il Natale Lei lo festeggiava La grande Benissimo Perché usi Questo verbo Al passato Perché lei sta dicendo Proprio di tornare A festeggiare Le festività Esatto Ma nulla di che Per il tamponamento Assolutamente sì È una roba Veloce E leggera Quindi ti sta chiedendo Di tornare Ad avere quel tipo Di Come dire Gioia Quel tipo Di leggerezza Compreso anche Nel festeggiare Il Natale Ti posso chiedere Una cosa Cara Daniela Stai pensando Di fare Dei corsi Di iscriverti A Come dire A delle nuove Attività Perché forse Vuoi cambiare lavoro Non lo so Nel caso Ti dico Che lei Mi sta facendo Vedere questo Questa tua zia E mi sta dicendo Che fai bene Ad ampliare Le tue possibilità Quindi non so Di cosa stia parlando Non so di che corsi Perché non me lo sta dicendo Però ti sostiene Molto 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 Quella qui davanti Mi sta dicendo Mi sta dicendo E non vorrei Dirle così In una dimostrazione pubblica Su facebook Che poi rimane Tra l'altro Quindi Io Se Chiederò permesso Ad Anna e Enrico Che sono Della pagina Focus 3.0 Se posso sentirti privatamente Per darti appunto Questi tre Dettagli Un po' Più personali Ok E Sandro Quindi Daniela Poi ci sentiamo In privato Grazie per aver dato Risconto a questa tua zia Che è ancora quattro All'altro Volevo dirti una cosa Sandro So che Non è da me Tu mi conosci Noi ci conosciamo Quindi devo dirlo Al pubblico Che ci sta Seguendo Però Ti devo chiedere Se Luglio Magari Anche giugno Che sta finendo Ma luglio E agosto Sono dei mesi Importanti Per il tuo figliolo Ok Anna mi ha dato Lo che è in diretta Quindi Daniela Poi ci sentiamo Sandro Sandro Io lo conosco Perché Insomma Ho incontrato Tanti convegni Ho il piacere Di averlo Anche nei miei corsi So la sua storia Lo è un figlio Dell'oltre Quindi io Dove essere onesto Lo dico Che sono cose che so Però questo dettaglio Mi sfugge Ti vorrei chiedere Se I mesi di luglio Agosto Ma forse anche giugno Perché sta per finire Compleanno 25 agosto That's right Ok Te lo dico perché Tuo figliolo E qui Mi sta facendo Proprio segno Di questa cosa Che appunto C'è qualcosa di importante Tra luglio Agosto E siamo lì Bravo 25 agosto Fantastico Grazie Sandro E non so Anche qui Come dire Devo stare attento Condivido con voi Quello che attraversa La mente Di un medium Indiretta Non so quanto Come dire Riesco a stare In un binario pulito In un canale pulito Perché chiaramente La mente Del medium Lavora Io Sandro Lo conosco Conosco Suo figlio Medianicamente Suo figlio Che è nell'oltre Quindi devo stare Molto attento E vado Veramente in trasparenza Ma detto questo Mi sta dicendo Che l'evolversi Di tutta la sua situazione Legata Spero di non dire Niente di troppo privato Comunque c'è un incidente Quindi ci sono Delle ricerche C'è un tribunale Insomma Ci sono delle varie Cause in corso Mi sta dicendo Che Come dire La direzione Il decorso Di tutto quel Lavoro Legale Veramente Sta arrivando Ad un dunque E andrà al meglio Io non so Se tu hai avuto Dall'ultima volta Che ci siamo sentiti E visti Degli sviluppi Ma quello che ti posso dire È che tuo figlio Mi sta dicendo Che ci siamo Proprio E' molto 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 Contento Quindi Non so se Questa cosa Ti risuona Se hai dei riscontri Ma insomma È quello che tuo figlio Ti sta dicendo Mi fa piacere Che abbia detto Questa cosa Del 25 Agosto Vanessa Vedo che Torniamo sull'argomento Sì ci sono sviluppi Ok Sandro Bene Grazie per il riscontro Non demordere Non demordete Tu e tua moglie Patrizia Perché appunto Vosso figliolo Vi sta dicendo Ecco In quella direzione Molto bene Molto bene Molto bene Grazie Sandro Per il riscontro E Volevo dirvi una cosa Molto spesso Il mondo dell'oltre Come dire Arriva Ci Racconta Come vedete In maniera anche Molto precisa Divertente Sono contatti in diretta Quindi andiamo un po' veloci Anche per una questione di tempo Però vedete Come è tutto molto Leggero Spontaneo Molto Io uso questa parola Facile perché davvero Può esserlo per tutti Talvolta però Il mondo dell'oltre Ci racconta anche Altro Cioè Come dire In qualche maniera Mette qualche semino Per ciò che riguarda Il nostro cammino Umano Il nostro cammino Terreno Per me è molto importante In questo momento Dirvi Ciò che Nelle ultime settimane Genericamente Il mondo dell'oltre Diciamo le mie guide Le persone che Collaborano con me Che sperimentano con me Ciò che appunto Tutte queste figure Qui attorno Sono venute a dirmi E a confermarmi Il mondo dell'oltre Ascoltate molto bene Il mondo dello spirito Ci chiede più che mai Di rimanere Agganciati alla nostra Frequenza più alta La nostra frequenza più luminosa Come dire Sotto gli occhi di tutti Il fatto che Stiamo vivendo Una delle pagine Più difficili Più drammatiche Anche per quanto riguarda La comunicazione Il mondo dell'informazione Tutti noi ormai Non sappiamo più Cosa è vero Cosa non è vero Ciò che ci viene detto Attraverso i media Più o meno Istituzionali o meno Ma non sta a me Stabilire questo Ma quello che invece È importante È Come dire Mettere Ben in chiaro L'avviso Che il mondo dell'oltre È venuto a portarci Negli ultimi tempi Che è quello Di mantenere alte Le vibrazioni Ora Io vi sto dicendo questo Perché Non posso dire Di avere qui Qualcuno Nello specifico Che mi stava parlando E se Qualora ci fosse Insomma Entro in contatto Vi dico Ma sento molto 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 Chiaramente Il mondo dell'oltre Diciamo la vibrazione Di queste dimensioni Sottili È come se fosse Un coro Che mi sta invitando A dirvi questo Cercate di rimanere In uno spazio Di vibrazione Alta Pulita Che cosa vuol dire Prendersi cura di sé Prendersi cura dell'altro Cercate di evitare Il commento Ma anche il giudizio Cercate di uscire Dallo spazio del confronto Cercate Veramente Di attingere Alle vostre qualità Più profonde Affinché Tutti noi Dalla persona Come dire Con la più scarsa Autostima Alla persona Con il grande Ego Affinché tutti noi Si possa In qualche maniera Ripulire Risistemare L'ambiente Energetico Spirituale Terreno Entro il quale Noi ci stiamo Trovando In questo momento Ciascuno È chiamato A fare Il proprio Pezzettino Che nessuno Si senta Escluso Da questo discorso È molto importante Perché molto spesso E questo è il mondo E questo è il mondo dell'altro Che ce lo sta Ricordando Come lo sta proprio dicendo Molto spesso Noi tendiamo A come dire Rilegare Agli altri Quello che Possiamo nel nostro piccolo Fare Tra di noi Che cosa vuol dire Pensiamo che Siano solo le persone Religiose Solo le persone Pie Solo le persone Buone Solo le persone Dotate magari Di capacità medianiche Solo le persone Che hanno Molto tempo libero Solo le persone Che hanno Una montagna Di soldi Pensiamo sempre Che siano gli altri A poter far qualcosa E noi invece Come dire Limitati Dalle circostanze In cui ci troviamo Come dire Possiamo solo Restare a guardare Non è così Non è così Quindi l'invito Che ci viene fatto È proprio quello Di partecipare A questa grande Rivoluzione Silente Silenziosa Come dire Che si muove Nel sotterraneo Ma che in realtà Come dire Porterà Tutta l'umanità Ad una vibrazione Diversa Ancora una volta Chissà perché Questa sera Lo citiamo spesso Steiner Ci invita Uno spunta Ad una grande Riflessione Ci invita A pensare Molto bene Questo Sembra che Quello che lui Tempo fa Ci aveva Anticipato Nelle sue conferenze Racchise poi In tantissimi libri Siamo nel momento Di massimo sconto Tra luce e ombra E credo proprio Che sia questo Non lo dice Il sottoscritto Ma vi invita A guardare Non solo Il mondo esterno Ma anche Il mondo Che vi appartiene Dentro C'è Questo equilibrio Forte Importante E anche Come dire Indispensabile Tra Ciò che ci spinge Verso il crepuscolo E ciò che ci spinge Invece Verso Una nuova L'equilibrio Tra queste due Zone Comunque Di luce Come dire Nasce Affonda Le sue radici All'interno Di ogni singolo Essere umano Per poi Proiettarsi Nel mondo esterno Quindi Quello che vi chiedo E non me lo chiedo Io Chiedo scusa Ma mi faccio Solo tramite Quello che ci chiedono E come dire Mi impegno Anche io Nel mio piccolo A partecipare A questa piccola Grande rivoluzione Quello che ci viene chiesto È proprio Di fare Il proprio pezzettino Nella vita Di tutti i giorni Nelle relazioni Di tutti i giorni Nella relazione Con se stessi Affrontare Guardarsi È molto difficile È molto difficile Soprattutto Per noi Che siamo Come dire In balia Delle emozioni Dei pensieri Ma rimanere ancorati Allo spirito Sarà la nostra Unica salvezza E lo spirito Ricordiamoci Che è assolutamente Immortale Quindi Se vogliamo Traghettare L'umanità Verso Una nuova era Si parla tanto Di risveglio Di era dell'acquario Eccetera Eccetera Che ognuno di noi Contribuisca A questa direzione Che ognuno di noi Dia la propria remata A questa grande barca Che chiamiamo Appunto Umanità Affinché Questa Nave Che ci porta Tutti Appresso Insomma Ci possa condurre Verso questi lidi Io vi ringrazio Ringrazio ovviamente Anna Tamburini Enrico Ballantini Per questa meravigliosa Opportunità Che mi è stata data Di essere qui ospite Su Focus 3.0 Noi ci vedremo Tutti i mesi Quindi vi do L'appuntamento Già Al 25 luglio Sempre alle 21.30 Con questa rubrica nuova Che nasce Appunto Con la diretta di oggi Cose dell'altro mondo Il mio grazie Va a tutti voi Per essere stati qui con me Grazie Alle persone Dell'oltre Che si sono manifestate Ce ne sono tante altre Ma insomma Pian pianino Famigliarizzeremo Un po' assieme Grazie per essere Appunto stati con me E Ci vediamo Alla prossima Quindi Un abbraccio grande E Buona vita a tutti A prestissimo Ciao